Un grande applauso a Delenoir, grazie a te, allora, Delenoir, e andiamo, tieni, tieni questa cassa, andiamo, andiamo in social top 10, andiamo verso la social top 10, di questa cassa. Allora, vediamo qua se escono fuori degli appunti, giusto per ricordarmi più o meno di cosa parliamo, parliamo di provincia italiana, in questo caso andiamo in socialia, e poi c'è stata questa notizia, tu, news, socialia, Fiuggi, creatura umanoide, ma perché umanoide e non umano, cioè, avvistata al lago di Canterno, quanto c'è di vero, dopo la notizia, la zona è stata perlustrata da un team di esperti del paranormale, cioè, la cosa incredibile è che se vedono al lago uno, pensano che sia una roba paranormale, umanoide. Grazie a tutti. Paremi nonna, ora, non è, non so perché ci sia sta foto, cioè, non capisco, non abbiamo capito bene se fosse proprio la foto dell'umanoide in questione, una foto, comunque, così, qualcuno dice, ma è Donald Trump, è un po', anche voi. Beh, il fatto che sia stato avvistato di sabato sera, dopo le 22, direi che rende la cosa molto attendibile, cioè, diciamo, uno, infiltrazione del Chardonnay nell'acqua termale, ne abbiamo, abominevole, ciociaro delle nevi di Filettino, ecco, appunto, dopo l'avvistamento della creatura c'è stato un fiuggi-fiuggi generale, vabbè, questo è proprio, però, però, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, questa è una notizia, in realtà è una vicenda vecchia, ma la notizia è diventata fresca in questi giorni, la Sony deve risarcirla, chi finisce in un video di Gigi D'Alessio mentre passeggia con l'amante.